Io ho parlato della nuova didattica interattiva che oggi giorno nelle scuole è sempre più importante, è sempre più importante l'interazione che i docenti dovrebbero avere con gli studenti proprio perché gli studenti hanno sempre più necessità di guide e punti di riferimento che dovrebbero trovare nei docenti e i docenti devono sempre di più avvicinarsi al mondo interattivo e tecnologico degli studenti per cui questo è stato più o meno il succo della presentazione. Trovo che sia molto più interessante e molto più attuale rispetto al parlare semplicemente di caratteristiche tecniche e magari di prodotto quindi focalizzarsi più sui contenuti, sull'interazione e ciò che si può fare, sul benefit che una tecnologia può dare all'istruzione, può dare al fruitore della tecnologia. Io vengo da un altro brand dove era molto forte la parte education e BenQ ha dei prodotti che secondo me sono molto validi proprio per quel settore quindi dalla videoproiezione ai monitor interattivi ed è per questo che ho voluto collaborare con voi e soprattutto poi anche avendo l'opportunità di presenziare a Didacta secondo me è un'ottima opportunità per far conoscere il brand e far conoscere che tipo di tecnologie tratta il brand a livello dell'educazione scolastica.